Se siete nello spogliatoio di calcio, se siete al bar e sentite una battuta sessista, potete dire no, questa battuta sessista tu non la puoi dire. Amici ben ritrovati, io sono Alistair. Oggi un video che faccio proprio con il cuore. Risponderò infatti a questa professoressa, presumo femminista, e ad alcuni suoi video che stanno girando sui social. Prima però lasciate che vi ringrazio dei numeri che stiamo facendo in questi giorni. L'ultimo video in appena due giorni ha quasi raggiunto le 60.000 visualizzazioni. Grazie mille a chi mi segue da anni e anche a chi si è iscritto da poco. Cercherò di meritare ogni giorno il vostro supporto e anche grazie mille agli abbonati Gianpaolo, Alchimista, Davide e Alessio. Chi vuole supportare il canale lo può fare anche solo con un euro al mese, trovate il link qua in alto. Bene, e ora andiamo a smontare un po' di affermazioni femministe usando fatti e logica. Ringrazio chi mi ha mandato su Instagram i video che vi mostrerò oggi. Se non mi seguite già, andate a seguirmi su Instagram. Allora, iniziamo dicendo che i video si trovano su una pagina Instagram chiamata, spero ironicamente, Rinascimento Culturale. Una pagina molto interessante con oltre 100.000 follower che vanta reel del tipo i maschi sono inutili. Dunque è certamente una pagina seria, equilibrata e imparziale. Ed è proprio su questa pagina che troviamo gli interventi di questa professoressa. Come uomini potete non stare zitti. Se siete nello spogliatoio di calcio, se siete al bar e sentite una battuta sessista, potete dire, no, questa battuta sessista tu non la puoi dire. Perché tacere di fronte a un comportamento discriminatorio fa sì che anche voi agiate la stessa discriminazione. Allora, iniziamo dicendo che io personalmente continuerò a ridere di gusto a tutte le battute sessiste che le mie amiche fanno sul genere maschile e a quelle che i miei amici fanno sul genere femminile. E invito tutti voi a fare lo stesso. E mettiamo anche bene in chiaro che in Italia la dittatura è finita. E se qualcuno vi dice questa battuta tu non la puoi dire, voi siete autorizzati a ridergli in faccia. Se le femministe mettono nello stesso pentolone tanto la violenza fisica quanto le battute tra amici o tra amiche, questo è un problema loro, non vostro. Dato che non c'è alcuna correlazione tra una battuta sessista e il fatto che un uomo o una donna facciano del male al proprio compagno o alla propria compagna. Molto interessante poi che coloro che si battono contro gli stereotipi di genere dicano uomini, se siete nello spogliatoio di calcio o al bar, che sono proprio i due luoghi più stereotipati che si attribuiscono al genere maschile. Ma passiamo alla prossima clip. La società tende a sminuire il lavoro femminile, le professioni femminili. Quindi se vediamo una donna in abiti da ospedale, pensiamo sia un'infermiera, mentre invece se vediamo un uomo pensiamo sia un dottore. Qua a me pare che sia lei a sminuire una delle due professioni, lasciando quasi intendere che il mestiere dell'infermiera valga meno rispetto a quello del dottore? In un ospedale dottore ed infermiere sono entrambi due mestieri fondamentali. E se si ritiene che una donna che lavora in un ospedale è probabile sia un'infermiera, questo è poiché ci sono molte più donne infermieri rispetto agli uomini. Tutto qua. Eh, ma le donne hanno pochi ruoli di responsabilità all'interno degli ospedali. Falso. Se andiamo a vedere la percentuale di dirigenti medici, le donne sono esattamente la metà. Abbiamo sì una donna premier, ma quante donne premier abbiamo avuto prima? Abbiamo sì, sembra, sette, otto rettrici donne in Italia. Sapete quanto sono nel loro complesso rettori barra rettrici? Più di cento. In vero adesso gli istituti finanziari si stanno organizzando adottando una rete vendita costituita da donne, finalmente, perché il settore finanziario è stato da sempre, tradizionalmente, completamente. Quando dico completamente vuol dire 99% maschile. Quindi mi immagino mia nonna che le suonano al campanello e si vede magari un uomo barbuto col cavolo che apre la porta. Allora, io qua non so veramente da dove partire. Facciamo finta di nulla sul fatto che, secondo lei, se uno si trova alla porta, un uomo barbuto col cavolo che gli apre... Si vede magari un uomo barbuto col cavolo che apre la porta. Non capisco quale pregiudizio abbia verso gli uomini con la barba, io non lo so. Cavolo che apre la porta. Poi io vorrei anche capire questo scandalo delle femministe sul fatto che in politica o nel mondo della finanza ci siano meno donne rispetto agli uomini. Non è che alle donne è proibito entrare in politica o nel mondo della finanza. Semplicemente sono poche a voler centrare. Perché alle femministe non fa invece scandalo che nel settore delle costruzioni, dei cantieri stradali o dei netturbini siano anche lì quasi tutti uomini? O che nel settore scolastico siano quasi tutte donne? Ci spiegherete mai un giorno perché questo desiderio di parità di genere valga solo per alcune professioni e mai per altre? Ma se io chiedessi a questa sala, alle donne di questa sala, se hanno mai subito una qualche forma di molestia che sia verbale, fisica, ma molestia anche del tipo... Non so, ricordo una volta andai con mio marito a una conferenza, ero incinta, quindi pure figuratevi, e andai perché io dovevo parlare. Mi chiamarono signorina e dissero a lui dove poteva andare a preparare la sua presentazione. Oddio, ma è una cosa gravissima! Scandola! Buonasera signorina, benvenuta... Molestia! Abuso! Discriminazione! Dai ragazzi, siamo seri. Questa è esattamente la dimostrazione che in Occidente molte persone vivono in una condizione di benessere e di privilegio tale che per vedere sopprusi e discriminazioni se li devono inventare. Vi assicuro che ai tempi della segregazione razziale negli Stati Uniti non avevano certamente bisogno di inventarsene le discriminazioni. Controllare il la partner è segno d'amore. Lo pensa il 71% degli adolescenti maschi. Una cosa molto interessante che ho notato guardando questi video è che la professoressa è molto puntuale e precisa nel riportare le statistiche che riguardano la percentuale dei maschi. Ma non ci dice mai la percentuale delle femmine. Dunque, sembra sempre che i maschi vogliono controllare, vedere. Mentre invece le ragazze, no! Mai che guardino il telefono del fidanzato o che vogliono sapere cosa fai con chi esce il proprio amoroso. No, questo mai! Queste cose le fanno solo gli uomini, eh! La violenza è accettabile dopo un tradimento. Lo pensa il 67% dei maschi tra i 18 e i 19 anni. Io qua ho davvero ben poco da dire. Basta cercare su Google per trovare a centinaia di notizie di donne che hanno ucciso o sfregiato ex fidanzati in quanto non accettavano un tradimento o la fine della relazione. Poco tempo fa in televisione, in prima serata, Carla Bruni ha detto tranquillamente che se suo marito si innamorasse di un'altra, lei lo ucciderebbe. Lei gli taglierebbe la gola. E la conduttrice si è messa a ridere beata. Cioè, se non fosse innamorata... Se mio marito si innamora non lo sopporterai, non lo sopporterebbe neanche lui, no? Certo. E mi scusi se glielo chiedo? Poi lo ammazzo, quindi dopo. Eh, non abbiamo più problema alla rete. Lo taglio la gola, quindi dopo vado in prigione, ma poco. Perché crimine passionale, sei anni. Cioè, capite a che punto è arrivata la propaganda femminista? Fare una battuta sessista nello spogliatoio al bar è una cosa scandalosa da condannare. Dire invece in televisione che tagliati la gola e il c***o di tuo marito fa ridere, è una battuta. Fatemi sapere nei commenti se a voi tutto questo sembra normale. A me no. Bene amici, anche per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e se vi va abbonatevi con appena un euro al mese. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.